ciao a tutti sono roberta della chicana dance oggi impariamo a ballare la cumbia andiamo ora a vedere posizionamento corretto per poter ballare la nostra cumbia un ballo popolare divertente e che si balla spesso quindi per metterci in posizione sicuramente abbiamo la mano destra del cavaliere con la destra della dama la posizione come potete vedere dei pollici è sempre uno rivolto verso l'altro e questo ci permette un miglior bilanciamento nella coppia la mano destra del cavaliere va posizionata sotto la scapola sinistra della nostra dama sempre in base all'altezza della dama con cui state ballando le ginocchia sono morbide leggermente rilassate perché ci permettono di migliorare le rotazioni in questo ballo ne abbiamo parecchie quindi andiamo a vedere il posizionamento dall'altra parte vedete la mano destra di simone sotto la scapola la sinistra della dama si posiziona all'interno dell'avambraccio del cavaliere questo permette di tenere una connessione più regolare il posizionamento della gamba destra della dama è sempre all'interno dei piedi del cavaliere più o meno posizionata a metà questo consente un miglior approccio nelle rotazioni adesso facciamo vedere dall'altra parte potete osservare nella rotazione la gamba all'interno ci fa dare migliore elasticità andiamo ad analizzare ora il posizionamento del fianco della dama rispetto al cavaliere potete vedere ci mettiamo in questa posizione con le braccia aperte questo ci consente di tenere una posizione orizzontale rispetto al nostro cavaliere e quindi sicuramente saremo in posizione corretta la mano destra del cavaliere sotto la scapola la sinistra della dama all'interno dell'avambraccio e le teste sono sempre vedete leggermente agli opposti sono aperte a fiore dobbiamo tenere le teste posizionate leggermente verso l'alto perché ci consentono di vedere dove stiamo eseguendo i nostri passi facciamo vedere ora la prima figurazione che è la greca angolata che possiamo inserire anche nella nostra cumbia ci mettiamo in posizione con le braccia per tenere un migliore equilibrio anche se ci muoviamo da soli andiamo ad analizzare il primo passo di piede sinistro del cavaliere tacco pianta il secondo passo sempre dritto tacco pianta il terzo a lato e il quarto chiude per continuare indietro sinistro sempre pianta tacco indietro pianta tacco indietro a lato di sinistro il destro chiude il piede sinistro molto bene facciamo vedere anche dall'altra parte rotazione partiamo sempre di piede sinistro avanti quindi sarà tacco pianta il secondo passo sempre tacco pianta dritto sulla stessa linea sinistro a lato e chiudo sinistro indietro destro indietro sinistro a lato e chiudo e questa è la greca angolata andiamo a vedere la prima figurazione della greca angolata con i passi della dama siamo in posizione partiamo di piede destro indietro piede destro al conteggio 1 il secondo passo di sinistro il terzo passo leggermente apre la punta del piede e il quarto andrà a chiudere e scende il tacco per ripartire in avanti sempre di destro 1 secondo passo 2 terzo passo a lato rotazione chiusura e scendo quello che è importante andare ad analizzare quando andiamo indietro aprire la punta del piede con un piccolo passo per permettere il passaggio del nostro cavaliere vado in chiusura e scendo in questa situazione è importante che la dama quando all'interno del giro esegua un passaggio piccolo per consentire al cavaliere di passare con meno difficoltà facciamo dall'altra parte al conteggio slow slow quick quick e avanti slow slow quick quick quindi sarà piantatacco piantatacco pianta piantatacco tacco pianta pianta tacco tacco pianta pianta ci mettiamo in posizione e andremo a vedere la greca angolata in coppia siamo pronti al conteggio di slow slow quick quick e indietro per il cavaliere slow slow quick quick slow slow quick quick e ancora slow slow quick quick molto bene vediamo la dama nell'azione interna al terzo passo partiremo slow slow apro la del piede in angolazione piccola il piede in angolazione piccola e chiudo per proseguire in avanti questo consente un posizionamento corretto del cavaliere rispetto al corpo della dama proseguiamo slow slow qui qui e ancora potete osservare slow slow piccolo passo e chiudo slow slow qui qui vediamo carole simone in posizione siamo pronti posizione 5 6 7 via slow slow quick quick slow slow quick quick slow slow quick quick slow slow qui qui quando abbiamo eseguito la nostra greca angolata indietro e dobbiamo continuare in avanti possiamo proseguire nella nostra cumbia con una bellissima figura che si chiama balance andiamo ad analizzare questa figura che si crea logicamente in una posizione di angolo ci mettiamo in posizione sinistro avanti con una piccola rotazione torno indietro a lato chiudo per proseguire poi con la nostra greca angolata che abbiamo fatto prima rivediamo e vediamo benissimo in spiegazione l'uso del piede quando io sposto il piede sinistro in avanti devo avere la punta rivolta leggermente verso sinistra questo ci permette un miglior bilanciamento del corpo sia per il cavaliere che per la dama che vedremo dopo questo perché andiamo a creare la figurazione del nostro balance in prossimità di un angolo come poi vedremo nel prossimo passaggio quindi torniamo indietro giriamo e chiudo i piedi facciamo vedere ora la figurazione dopo la greca del nostro balance al conteggio slow di sinistro slow di destro a lato chiudo proseguo indietro slow destro indietro slow quick quick e da questa posizione posso agganciare il mio balance slow torno indietro slow rotazione di un quarto e chiudo per proseguire in avanti sempre con la nostra greca angolata slow slow qui quick torno indietro slow slow qui e balance slow slow rotazione e chiudo andiamo ad analizzare ora i passi per la dama del nostro balance il passo destro indietro slow torno in avanti rotazione di un quarto del piede destro chiusura e scendo facciamo rivedere ancora carola posizione del piede destro indietro slow torno in avanti slow a lato chiudo lo vediamo con il conteggio corretto pronti slow slow quick quick e ancora slow slow quick quick andiamo a vedere ora in posizione carola e simone che ci eseguiranno la greca angolata che abbiamo spiegato prima siamo pronti slow slow qui qui ed ancora la facciamo rivedere via slow slow qui qui la ripetiamo ancora così avete un'altra angolazione slow slow qui qui e creiamo l'ultima slow slow qui qui avete visto che con un quarto di rotazione quattro balancé ci hanno consentito di fare un giro completo della pista a questo punto possiamo proseguire con la nostra greca slow slow qui qui andiamo indietro ci troviamo in posizione d'angolo e siamo pronti a partire col balancé slow slow un quarto di rotazione proseguiamo con la greca slow slow qui qui siamo arrivati in un altro angolo balancé slow slow qui qui ne potete fare quanti volete e proseguiamo con la greca e potete fare quanti volete e proseguiamo con la greca indietro slow slow qui 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 slow 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 qui 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 slow slow qui qui slow slow qui qui slow slow balancé slow slow e continuiamo con la greca slow qui qui battaglia Bene, per la cumbia è tutto, ci vediamo alla prossima video lezione, ciao! Grazie a tutti!